Ecco il video numero 2 della serie lingua mandibola, separiamole, ok? L'abbiamo già detto che le due cose tendono a volte ad andare automaticamente unite, quando parliamo lo facciamo continuamente, vedete io sto parlando e sto muovendo mandibola molto, le labbra, le guance e la lingua internamente, ma quando cantiamo molto spesso è non soltanto inutile ma è anche controproducente tenere unite tutte le due cose. Per esempio noi tendiamo a fare beh, beh, una cosa che muove sia la mandibola che la lingua, il che va benissimo se è necessario per certi motivi, per esempio se la lingua ha bisogno di mandare il suono nella zona faringea, però attenzione che non deve essere una cosa che in automatico le due cose si muovono, ma deve essere che le muovo, sono in grado di muoverle separatamente e intenzionalmente e le unisco quando questa cosa serve. Allora abbiamo già fatto un video sul lavorare con la lingua in autonomia rispetto alla mandibola e troverete tutte le varie connessioni per trovarlo, ora voglio postare un altro esercizio che invece lavora sulla mandibola, cioè sul movimento della mandibola a prescindere dalla lingua, quindi beh, 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 vedete la lingua è neutra? beh, 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 si muove la mandibola, ok? Il pattern che useremo è 5, 3, 1, beh, 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 cercate di non fare beh, 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 dove la lingua si solleva, ok? Proviamo insieme, inspiro e così via naturalmente come tutte le cose tutto questo movimento di bandivola è raramente necessario per cantare ci serve però per capire molto spesso gli esercizi che facciamo e che proponiamo noi insegnanti hanno a che vedere con la palestra è come se andassimo a fare i ballerini diciamo così e in una prima fase ci facessero fare dei movimenti che sono molto estremi proprio perché più noi impariamo a conoscere il nostro corpo più noi impariamo a conoscere le sue possibilità e espandere queste possibilità e più poi siamo in grado di usarle al momento giusto nella quantità giusta ok provate questi esercizi andate a rivedere gli altri sulla lingua fatemi sapere come vi trovate se avete naturalmente bisogno di approfondimenti sapete dove trovarmi un bacio ah naturalmente come tutte le cose che bisogna fare iscrivetevi condividete eccetera molti mi dicono che i miei video ogni tanto spariscono mi rendo conto che molto probabilmente dipende dal fatto che se non si fa un sacco di movimento sotto non si va avanti non mi interessa io continuo a farlo se a voi fa piacere naturalmente condividete e soprattutto fatemi sapere di che cosa avete bisogno in che modo possa esservi utile ciao